Ciao a tutti amanti dell'Urbex e benvenuti nella nuova stagione di Urbex of Us, la seconda. Adesso vado a spiegare brevemente di cosa parla questa rubrica per magari coloro che non avessero visto la prima stagione. Come dice il nome stesso di questa rubrica, Urbex of Us prende spunto da The Last of Us. Che cos'è The Last of Us? The Last of Us è un videogioco per varie console dove il mondo è abbandonato a causa di un virus, quindi praticamente la razza umana è sull'orlo dello sterminio e di conseguenza il mondo è completamente abbandonato. Cosa c'entra The Last of Us con l'Urbex? Beh, tramite i vari personaggi che ci sono in The Last of Us, questa volta ci dedicheremo alla parte 2 di The Last of Us, andremo ad esplorare questi incredibili spazi, incredibili strutture che si trovano all'interno del videogioco, teatri, scuole, ville, castelli, città fantasma, ci sono anche delle chicche che se esistessero veramente venderei tutte e due i reni pur di esplorarle. Insomma, restate sintonizzati perché questa rubrica è veramente veramente una sorpresa. Sigla e partiamo! Amanti dell'Urbex, benvenuti in una nuova puntata di Urbex of Us, una puntata, diciamo così, formato breve, visto che, come vedete, questo video dura veramente poco. Ovviamente dipende dal luogo che stiamo andando ad esplorare. Prima di proseguire vi ricordo di lasciare un bel mi piace sotto a questo video perché oggi andremo brevemente, come vi dicevo prima, ad esplorare questa sinagoga. Ve l'avevo promesso mercoledì scorso, quando abbiamo esplorato Seattle, che saremmo entrati in questa sinagoga che si trova proprio a Seattle. Siamo sempre in compagnia di Ellie e Diana e guardate subito lo spettacolo, amanti dell'Urbex. Io sono veramente affascinato da tutto ciò che ha a che fare con le chiese. Diciamo che, alla fine, la sinagoga, se così vogliamo dire, è una sorta di chiesa. Le vetrate sono veramente meravigliose. Lì c'è anche un bellissimo candelabro e qui c'è addirittura una sorta di archivio. Purtroppo, amanti dell'Urbex, ve l'ho detto, questa esplorazione è quasi giunta al termine perché è un ambiente veramente piccolo. Con questa incredibile prospettiva vi ricordo che ci vediamo mercoledì prossimo, 20 e 30. Ciao! Amanti dell'Urbex, siamo giunti così alla fine anche di questa puntata di Urbex of Us. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questa esplorazione realizzata all'interno di The Last of Us parte 2 e io vi ricordo che ogni mercoledì alle 20 e 30 puntuali qui su Urbex MJ perché appunto ogni mercoledì alle 8 e mezza di sera esce una nuova puntata di Urbex of Us stagione 2. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto di questo video e ci vediamo mercoledì prossimo, ore 20 e 30. Ciao! Ciao!